E' stato inaugurato questa mattina a Pescara in via Gran Sasso il nuovo centro Servirsi per l'inclusione della Caritas di Ocesana grazie al programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale. Presso il centro di ascolto saranno a disposizione gli sportelli per l'accoglienza delle richieste di sostegno e ascolto del bisogno, l'orientamento all'accesso ai servizi territoriali per la mediazione e l'accompagnamento ai servizi sociosanitari, educativi e del privato sociale. Ci sarà anche il servizio docce e vc per accogliere i senza dimora che non hanno la possibilità di provvedere alle necessità quotidiane legate all'igiene personale. Nella struttura avranno modo di fare la doccia, la colazione, far lavare i propri indumenti. Ci sarà anche l'unità di strada per persone senza fissa dimora con uscite serali e pomeridiane finalizzate all'incontro. In questo edificio già c'erano alcuni servizi che venivano comunemente gestiti anche dalla Caritas di Ocesana. Adesso prende dimora in questo luogo il centro d'ascolto che per noi è l'elemento fondamentale per una dimensione Caritas. Quindi noi ascoltiamo i bisogni, ascoltiamo le necessità e intorno a questi bisogni, a queste necessità si costruiranno poi un'altra serie di progetti che sicuramente servono tutti a cammino di inclusione ma al servizio per gli ultimi, per coloro che sono meno più svantaggiati. Eccellenza, in questo momento storico difficile ci sono sempre più persone, sempre più cittadini che quotidianamente si rivolgono alla Caritas. Un numero in costante crescita. Il numero è sempre maggiore, il problema è trovare le risorse che sono indispensabili e purtroppo molto spesso queste risorse alla Caritas non è che vengono messe a disposizione da nessun ente, se non piccole briciole dagli enti pubblici. Facciamo forza sulle nostre risorse ma che non sono illimitate, che non sono senza una fine, per cui chiediamo anche forse una maggiore attenzione a questa necessità che magari sono colmate anche da altri tipi di realtà che non sono la Caritas, ma noi certamente facciamo fatica.